Ciao amici value investor, ieri Meta ha rilasciato un'altra trimestrale alla Meta con le azioni che in after sono salite del 7%. Ora la domanda è, siamo ancora in tempo per comprare Meta o è troppo tardi? Ne parliamo in questo video. Meta ha battuto quasi tutte le aspettative degli analisti, le revenue erano stimate in crescita del 20% e invece sono cresciute del 22%. Il profitto operativo è cresciuto del 58% con il margine operativo che è passato dal 29% di un anno fa all'attuale 38% e l'utile per azione che era stimato in crescita del 60% e invece cresciuto del 73%. Questi sono numeri impressionanti. Questa è un'azienda nettamente migliore rispetto a un anno fa. È interessante notare come le spese operative siano cresciute nel complesso solo del 2% rispetto all'anno fa. Addirittura le spese in sales e marketing e general e amministrative sono calate e nonostante questo calo le revenue sono cresciute del 22%. Meta è un'azienda che ha costi ormai sotto controllo stabili mentre le revenue continuano a crescere a doppia cifra. Questo è un esempio straordinario di leverage operativo. Hanno battuto anche la guidance degli analisti per il Q3 con una crescita prevista per il terzo trimestre delle revenue di circa il 16%. Ma hanno aumentato anche la guidance per le spese in capex per il 2024 e hanno detto che nel 2025 saranno ancora superiori. Probabilmente quindi si arriverà a 45-50 miliardi di dollari di capex, cifre astronomiche. Ma necessarie per chi vuole diventare leader nell'intelligenza artificiale. Infatti sono tutte spese per data center e server per l'intelligenza artificiale. E Mark Zuckerberg ha detto che Meta AI entro la fine dell'anno sarà l'assistente AI più utilizzato al mondo. Ha spiegato anche che le persone hanno utilizzato Meta AI per miliardi di query da quando l'abbiamo introdotto per la prima volta. Stiamo vedendo segnali particolarmente promettenti su WhatsApp in termini di fidelizzazione e coinvolgimento, in particolare l'India che è diventato il nostro più grande mercato per l'utilizzo di Meta AI. E ha aggiunto che è difficile capire come si evolverà l'intelligenza artificiale in futuro ma in sostanza ha meglio correre il rischio di investire troppo ora in infrastrutture per l'intelligenza artificiale piuttosto che rischiare di ritrovarsi indietro e dover poi rincorrere. E visto che a Meta di certo i soldi non mancano direi che se lo può permettere. Il numero di utenti attivi, il costo per ads e il numero di impressions sono tutti parametri in crescita anche in questo trimestre. E come potete vedere il prezzo delle ads continua a crescere costantemente in ogni parte del mondo. Questo vuol dire solo una cosa. Dominio. Meta può fare i prezzi che vuole e aumentarli costantemente perché non ci sono alternative valide. E le revenue continuano a crescere a ritmi mostruosi in ogni parte del mondo. Sembra un'azienda tornata alla fase growth. Il reality lab è cresciuto come revenue anno su anno ma è ancora una parte molto piccola del fatturato totale e perde anche una marea di soldi da anni ormai. Non so se e quando diventerà profittevole questo segmento di business. Penso che un giorno diventerà profittevole. E penso che nemmeno Mark però sappia quando. E gli interessi poco però. Ora come ora vuole solo pensare a farlo crescere e non renderlo profittevole. Io dico che non si può fare altro che fidarsi di Mark anche perché la fiducia se l'è meritata. Ha avuto ragione negli ultimi anni quando ha speso una montagna di soldi in intelligenza artificiale quindi lo lascio lavorare e vediamo se ha ragione anche su metaverso, VR, realtà aumentata eccetera. Nonostante però la grande crescita di revenue e utili il free cash flow è piatto anno su anno principalmente per due motivi. Uno a causa di una bella differenza di accrued expenses con l'anno scorso ma questo è un evento, una tantum e due per l'elevato aumento delle spese in capex di cui abbiamo parlato prima. Secondo me Mark sta facendo un lavoro straordinario sembra che più passi il tempo più migliori come CEO e sta rilanciando alla grande quello che era considerato fino ad un paio d'anni fa un social media morto e per boomer ossia Facebook. Ma la realtà è che tutti i social di meta stanno crescendo molto bene non solo nei mercati emergenti ma anche in quelli più maturi tipo gli Stati Uniti. Infatti Mark ha dichiarato attualmente contiamo più di 100 milioni di utenti attivi al mese negli Stati Uniti e stiamo riscontrando una buona crescita anno su anno su Facebook, Instagram e anche threads. quindi su tutti i social e anche Facebook sta crescendo nonostante la narrativa sia nessuno usa più Facebook. E un'altra narrativa su Facebook è che ci sono solo boomer e vecchi e a proposito di questo Mark ha detto nella conference call sono particolarmente soddisfatto dei progressi che stiamo facendo con i giovani adulti su Facebook i numeri che stiamo vedendo specialmente negli Stati Uniti vanno davvero contro la narrativa pubblica su chi usa quest'app. Un paio di anni fa abbiamo iniziato a concentrare le nostre app più sulla fascia 18-29 anni ed è bello vedere che questi sforzi stanno producendo buoni risultati. Quindi la realtà è che Facebook è vivo e si sta ringiovanendo. Poi su threads il competitor di Twitter o X ha detto che ha quasi raggiunto 200 milioni di utenti attivi mensilmente cioè Mark è diventato così esperto con i social media che in pratica può lanciare un nuovo social con 200 milioni di utenti attivi in appena un anno. E probabilmente tutti i social di meta e le app di messaggistica potranno vivere una seconda giovinezza grazie all'intelligenza artificiale sia per i consumatori di contenuti che grazie all'EI vedranno contenuti sempre più in linea con le loro preferenze ma per me soprattutto per gli inserzionisti perché l'obiettivo di Mark è arrivare al punto che grazie all'intelligenza artificiale basterà per fare una campagna pubblicitaria inserire semplicemente il budget disponibile e l'obiettivo da raggiungere ad esempio farsi conoscere da più persone possibile oppure farsi contattare via Whatsapp eccetera e questo è fantastico perché vuol dire che chiunque anche senza particolari conoscenze tecniche o risorse economiche per pagare una social media agency potrà promuovere la sua attività dal panettiere all'imbianchino con l'intelligenza artificiale si può avere una sorta di democratizzazione della pubblicità le piccole attività con poche risorse economiche e umane potranno sempre di più trovare nuovi clienti e quindi sopravvivere e dicono poi che Meta fa solo male al mondo e sicuramente grazie all'intelligenza artificiale le app di messaggistica di Meta potranno aiutare tantissime aziende ad automatizzare molti processi di relazione con il pubblico come le richieste di informazioni l'assistenza tecnica la vendita eccetera e potranno fare questo attraverso i chatbot su WhatsApp Business e Messenger questo può far risparmiare alle aziende davvero un sacco di soldi perché rispondere manualmente a tutte le richieste che vengono fatte ad un'azienda ogni giorno è un'attività molto dispendiosa quindi io penso che il potenziale dell'intelligenza artificiale per Meta non sia ancora pienamente sfruttato anzi forse siamo solo agli inizi questa azienda potrebbe continuare a crescere per molti anni ancora ma è chiaro che dopo la crescita straordinaria del titolo che c'è stata da fine 2022 molti abbiano timore ad investirci e se ci focalizziamo sulla price action è così posso capire ma se ci focalizziamo sul prezzo rispetto ai fondamentali dell'azienda non mi sembra che Meta sia molto più costosa rispetto a qualche anno fa ad esempio diamo un'occhiata al price to operating cash flow proprio come in un recente video su Amazon visto che anche Meta è in una fase di straordinari investimenti in capex per Amazon e per Meta penso sia meglio comparare il prezzo al cash flow depurato delle spese in capex e il valore che viene fuori per Meta è di circa 15 e come potete vedere alla fine il valore è in media con il passato non è più alto cioè il prezzo è aumentato molto di recente ma anche il business è migliorato tantissimo ora rispetto ad un paio di anni fa abbiamo un'azienda con quasi il 40% di margine operativo e non più il 20-30% di un paio di anni fa quindi è molto più profittevole ha accelerato la sua crescita è molto più dominante non come prima che c'era TikTok che stava rubando quote di mercato non ha più i problemi delle restrizioni di iOS ed è in prima linea per la leadership dell'intelligenza artificiale che è un mega trend che ci accompagnerà per i prossimi decenni se non avessi già il 30% di Meta in portafoglio è probabile che l'avrei presa nonostante il prezzo sia vicino ai massimi e questo lo sanno bene i membri del circolo dei value investor perché di recente ho preso un'altra azione vicino ai massimi come prezzo ma rispetto ai fondamentali mi sembra a buon mercato io penso che Meta sia stato il più grande esempio negli ultimi anni di come nel breve il prezzo guidi la narrativa cioè quando il prezzo è sceso sotto i 100 dollari la narrativa non era come economica Meta ma era è una pessima azienda più il prezzo scendeva più il mercato diceva che Meta faceva schifo ora che il prezzo è salito fino a 500 dollari la narrativa non è probabilmente ci siamo sbagliati Meta è un'ottima azienda ma è Meta è troppo costosa il prezzo è salito troppo cioè se guardiamo la price action invece dei fondamentali rischiamo di farci fregare dalla narrativa del mercato e commettere tanti errori e questo è uno dei motivi per cui nella nostra community su Discord nel circolo dei value investor non parliamo di analisi tecnica di supporti, resistenze, volumi di scambi non parliamo in generale del movimento dei prezzi ma analizziamo i bilanci il modello di business delle aziende e il loro valore intrinseco e se siete anche voi di questa filosofia vi invito ad unirvi alla nostra community in cambio di un piccolo sostegno attraverso Patreon vi lascio il link in descrizione e fatemi sapere cosa ne pensate di Meta dopo questa trimestrale un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide ciao ciao